Benvenuti sul canale Sancti Boy, oggi siamo qui per la previsione di NXT TakeOver 31 Sentite anche voi quest'aria di inverno, di neve? Neanch'io perché siamo inottuno Comunque, cominciamo Cuscita contro Velvet in Dream Intanto, premessa iniziale, giusto così una news per chi l'ha sentita Da questo TakeOver comincia la nuova era dei TakeOver, ovvero non ci saranno più NXT TakeOver Toronto, Orlando, Rogoredo, NXT TakeOver Bussolengo, no Adesso cominciano con i numeri, può piacere o non piacere, comunque, vabbè A me personalmente piace perché è un po' più identificativo, vedete, non so, NXT TakeOver è proprio qui in quattro, è già un po' più di confusione, invece così è più definito Comunque, cominciamo da Cuscita contro Velvet in Dream Abbiamo un bel match sulla carta, con due ottimi lottatori, due stili di lotta completamente diversi, uno molto tecnico Cuscita, Velvet in Dream, più spettacolare Faida che mi poteva essere mandata avanti meglio, è uno più attacchi alle spalle che una vera e effettiva Faida Non ho capito bene all'inizio con Cuscita che sembrava heal, poi face, poi heal, poi face Comunque, abbiamo un match che sulla carta, come già detto, si presenta molto bene Personalmente io vedo una vittoria scorretta di Velvet in Dream A Cuscita serve una vittoria in pay per view, anche perché questo è il primo TakeOver di Cuscita E non solo per lui, comunque è il primo TakeOver di Cuscita e una vittoria sicuramente darebbe lustro alla persona e all'ottatore Però io personalmente vedo una vittoria di Velvet in Dream con Faida che prosegue E successiva dopo vittoria della Faida di Cuscita Comunque per il momento secondo me vince Velvet in Dream Non ne sono per niente sicuro, anzi vi dirò, è un 65-35, siamo abbastanza lì, però secondo me vince Velvet in Dream in modo scorretto Comunque, secondo me c'è Santos Escobar che difende il titolo dei pesi leggeri contro Isaiah Swerve Scott Primo, abbiamo due primi qua, primo TakeOver, primo match in TakeOver per entrambi nella Main Card E soprattutto, prima volta che il titolo dei pesi leggeri viene difeso in un TakeOver Diciamo che ultimamente tanti con il titolo dei pesi leggeri Tante cose che sto dicendo nelle previsioni o recensioni stanno venendo esaudite come per esempio il titolo intercontinentale che non ha risalto Ed è stato uno dei migliori match, forse il miglior match, di Glash of Champions Avevo detto nella previsione di... nella recensione di TakeOver che il titolo dei pesi leggeri non è ancora stato difeso Ed eccolo qua, ci ritroviamo due mesi dopo con il match per il titolo dei pesi leggeri Comunque, bando alle ciance, Fyla che va avanti da un bel po' Da metà estate, Santos Escobar che sta portando bene il titolo Mi piace come personaggio, mi piace la stable, non mi fa impazzire Però per NXT è buona, cioè è una stable che ne me rosta, no Però comunque si stanno formando, anche perché comunque Joaquin Wild e Raul Mendoza non è che sono da vent'anni che sono in NXT Soprattutto anche i Wild deve un attimo formarsi bene Anche Santos Escobar a livello di moveset deve un attimo trovare qualcosa di più Isaiah Swift Scott invece l'abbiamo già visto fare diverse apparizioni anche in eventi importanti E soprattutto lui il suo moveset ce l'ha ben definito Io preferisco una vittoria di Santos Escobar perché personalmente secondo me quello che toglierà il titolo di Santos Escobar sarà Cushida Assolutamente, deve essere lui, devono dare assolutamente il tuo titolo a Cushida E il titolo di Piesi Leggeri può essere una valida opzione Appunto tra l'anno scorso di prima Cushida che può avanzare per il titolo di Piesi Leggeri Vincendo magari proprio contro Rebbe Tendrini Con la vittoria della faida Comunque secondo me vittoria che va a Santos Escobar è in un match che si per annuncia essere molto molto spettacolare Con sicuramente varie intromissioni dei Leggeri del Fantasma da una parte e molto probabilmente con il Bevisango dall'altra Andiamo avanti, Yushirai che difende il titolo di NXT Women's Contro Candice LeRae Allora, match già fatto in un takeover, era in NXT takeover pronto A parte invertite perché Yushirai era appena diventata Illy che inizia l'era Face Era ancora caramelle, cuoricini, LSD, vabbè Comunque, però è un match già visto l'anno scorso Perché era il takeover prima di SummerSlam l'anno scorso Però è sicuramente un match che ti fa piacere vedere perché ve lo consiglio di andare a recuperarlo Se non l'avete visto Yushirai contro Candice LeRae NXT takeover pronto 2019 Soprattutto, ma anche il fatto che a parte invertiti abbiamo comunque qualcosa di novità anche nel buffset Diciamo che questo match dipende anche dal match dopo Che è quello per il titolo Nord American dove c'è il marito di Candice LeRae, Johnny Gargano Secondo me la coppia felice e contenta non porterà a casa entrambi gli ori Se ce n'è una che prenderà il titolo sarà Candice LeRae If Ma secondo me rincerà Yushirai perché non mi sembra assolutamente il momento di togliergli il titolo Sembra una cavolata ma non lo è Soprattutto in vista di Survivor Series Fate un attimo due calcoli di chi sono le campionesse femminili Dato che c'è Champion vs Champion vs Champion Pensate un po' a chi è quella di Raw E avete trovato il motivo per cui non toglierai il titolo in questo momento A Yushirai Quindi match che è candidato come migliore della serata Quindi spero perché sono due lottatori formidabili Secondo me vincerà Yushirai Anche qui non sono sicuro del risultato Anche perché devo dire che è un takeover con quasi tutti i risultati incerti Che NisleRae effettivamente potrebbe anche essere il momento di dargli il titolo Ho visto il turnile, il cambio di attare, il cambio di personaggio Però secondo me Yushirai è ancora la top di... È una delle top della WWE ma è sicuramente la top di NXT in questo momento Andiamo avanti Damien Priest che difende il titolo Nord America contro Johnny Gargano Allora qui la storia è più diversa perché sì è un risultato incerto, sì ci possono essere intermissioni Ma Damien Priest ha appena vinto il titolo Nord America E Johnny Gargano, cosa dobbiamo dire ancora di Johnny Gargano in NXT? Match per il titolo Nord America li ha già fatti Se volevano dare il titolo Johnny Gargano a Nord America Potevano darglielo un mese fa Nell'Under Match dove ha vinto Damien Priest Diciamo che è il classico match dove nell'Under Match c'erano 8 lottatori Uno vince e dopo uno di quelli che ha perso va contro Già visto tante tante volte Però abbiamo due top name di NXT Soprattutto Damien Priest che sta scalando la classifica dei migliori di NXT E sta scalando anche la classifica dei miei migliori Dato che è sempre stato un lottatori che mi è sempre piaciuto Secondo me vincerà Damien Priest anche perché appunto l'ha appena vinto E Johnny Gargano questo titolo l'ha già vinto E soprattutto poterà vincere un mese fa se proprio vogliono farglielo vincere E quindi anche questo è candidato come bel 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 match Anche perché hanno due lottatori con un grandissimo e vastissimo parco mosse Andiamo avanti Main Event Non vedevo loro a questo punto Finn Balor contro Kyle O'Reilly Finn Balor ovviamente che difende il titolo di NXT Questo secondo me non solo è candidato a match della sera Ma potrebbe essere anche candidato a match dell'anno Spiegare i motivi mi sembra un'offesa Però se qualcuno... Cioè a me ha fatto ridere che NXT hanno fatto dei chi è Kyle O'Reilly Andiamo a scoprire Kyle O'Reilly perché è in un match per il titolo Stiamo scherzando? Premessa secondo me A parte che basta vedere in questi due anni Anzi in questi tre anni in NXT cosa ha fatto Ma comunque per chi non l'avesse visto Per chi non l'avesse visto si può andare a recuperare un match tra Kyle O'Reilly Adam O'Reilly e Ringo O'Reilly Quello dove tra l'altro ha vinto Kyle O'Reilly Quello delle puntine Quello lì Match spettacolare Secondo me a livello di... Del ring in sé Kyle O'Reilly è il migliore dell'Andy Spiriti d'Ira Perché è veramente il più eclettico È quello che si adegua di più all'avversario Facendo fare un buon match sia a lui che appunto a se stesso Perché anche Roderick Strong è bravo Però lui punta tanto tanto sulle ginocchia Sulla schiena Facendo mosse sulle ginocchia Quindi quando c'è un avversario pesante e in difficoltà Adam O'Call uguale Invece Kyle O'Reilly La cosa che mi piace di più di Kyle O'Reilly Cioè mi sembra un po' paradossale parlare di... Spiegare perché è Kyle O'Reilly bravo Comunque La cosa che mi piace di più di Kyle O'Reilly Che riesce a fare mosse spettacolari Pur facendo mosse all'arto, agli arti Cioè indebolendo tipo facendo mosse alle braccia Invece delle classiche prese statiche da fermo Riesce a fare delle mosse spettacolari Indebolendo l'arto dell'avversario E questo è secondo me La caratteristica principale di Kyle O'Reilly Visto che lui ha vinto nel Gauntulente Elimination Match Puntando alla gamba dell'avversario Che era Cameron Grimes Però lui tecnicamente punta molto di più al braccio Ha vinto un sacco di match puntando anche alla testa Facendo sottomissione alla testa Lui diciamo che è molto tecnico come lottatore Ripeto, parlavo qua di Kyle O'Reilly Spiegare perché è bravo Cioè questa opportunità se la merita tutta Sono contento che NXT regala Proprio regala questo match qua Perché il classico match Del più forte contro il più forte Non lo so Ed è questo NXT ragazzi Cioè questo NXT Anche per divi Johnny Gargano Le match contro Damien Priest Serve per dare risolto a Damien Priest Perché sicuramente vincerà E vincerà contro Johnny Gargano E quindi dici Minchia ha vinto contro Johnny Gargano Questo mi piace Cioè NXT è la terra dei giovani Delle opportunità Del Delle ottozioni che devono crescere E quindi sono questi match che voglio vedere Quindi questo qua sicuramente Candidato al match dell'anno Secondo me vinceva Fimbano Perché comunque ha vinto Tre settimane fa il titolo Secondo me potrebbe succedere qualcosa A livello di Andy Sputidira Alla fine dell'evento Potrebbe Potrebbero splittare Non so se succederà in NXT Ma Ma secondo me succederà qualcosa In Andy Sputidira Imploderanno Non so se tutti Ma almeno qualcuno andrà via E quel qualcuno potrebbe anche essere Credo Rally Visto che come singolo È validissimo C'è il misterioso personaggio Che trama nell'oscurità NXT Che abbiamo visto Nelle ultime due puntate Che Allora Si è detto Ovviamente si è visto Che è un lottatore Che è stato campione di NXT Si diceva Robert Wood Dato che era In procinto di tornare Ma è tornato a Raw Quindi ragazzi Non è che potrebbero essere Chissà chi Ne rimane uno Secondo me Se è uno che ha vinto Il titolo NXT È Bo Dallas Che hanno detto Che adesso Bo Dallas Dovrebbe tornare Con un nuovo attire Una nuova gimmick E un nuovo parco mosse Quindi il lottatore È completamente cambiato Stile Non so Roman Reigns Quando è tornato Cioè quando è tornato Quando era NXT Quando è passato Nel main roster O The Fiend Ma lì era più personaggio Quindi è un lottatore Completamente diverso Molto più serio Visto che comunque Ha detto che Un lottatore Che torna a NXT Appunto Bo Dallas E a NXT E in più Ci ricordiamo Ci ricordiamo tutti Come Bo Dallas È andato via Da NXT Scortato via Nel golf cart Con l'arena Che gli volta le spalle Sarebbe un buon Espediente narrativo Per inserirlo a NXT Il fatto del ritorno Comunque Bo Dallas A NXT Era un lottatore valido Le sue cose Le faceva Dopo è andato Nel B-Team E vabbè Queste sono le mie previsioni Card degna Di un takeover E secondo me Card che torna a splendere Perché tutti i match Se ci pensate Sono Infatti l'ho detto Più volte È il probabile Match Più bello della serata L'ho detto In 3 e mezzo Su 5 Manca il match Per il titolo di coppia E manca Da 2 takeover E nel senso Forse addirittura Da 3 No manca Da 3 takeover Perché neanche NXT takeover In Newer House C'era Adesso lo faranno Sicuramente Nelle puntate di NXT Si sa già quale Diciamo che Un'altra curiosità È che dopo Ben 7 Takeover Adam Cole Non è nella card L'ultimo era NXT takeover Phoenix L'ultimo takeover Dove lui non c'era Quindi sono molto Molto curioso Di tutti i 5 match Tutti i 5 match Mi interessano Tutti i 5 match Hanno un risultato Non un po' più sicuro Sicuro A parte forse Il main event Anche se comunque Carly Rally Ha la sicurezza Di un Degli aiuti Anche se secondo me Carly Rally perderà Per colpa di Adam Cole Perché è lui che vuole Le luci della ribalta Scrivete nei commenti Cosa hanno preso Di questo takeover Il match che vi piace di più Se attendete questo takeover Pagina Facebook Fiori Instagram Iscrivetevi Ma che bucina Iscrivetevi al canale Ci vediamo In una prossima puntata Con i Sainty Boys Che rompono In casa vostra A guardare takeover Tutti insieme 3 2 1 TIT Grazie.